musica 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 e anche se stegge andasse meglio si si alla fine si o se si bomba la fiffa fa brutta sta cosa comunque meno male essere sul pareggio e non una bella botta lì si ha preso la fiamma la scheda video forse d'orca troia no fedezzaccio due 4 3 1 2 tutti quattro sì sì a parte hanno fatto dei gol incredibili uno su punizione si si sta giocando bene no vernell sono cattivi tra lezione al centro interviene a lontana grande dubbio bravo palla per thomas avanza sulla tre quarti ma è ma è tanto se non ha la palla persa ormai uno ci prova tanto se rossa e palla persa no no trappolissimo tu 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 mamma mia trappolissima era di quella si bella dai qui qui le ha levato il difensore bravo bravo buono 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 si ho visto si ha fatto un po' di cirelle occhio al corner occhio al corner occhio al corner oh la cirellina bravo 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 ragazzi mancava il tempo vai bravo giù e botta il mi l'uomo e bella can indietro ma è poi rimasta lì neri balzati su il sì sì due numeraccio bravo oddio ho visto 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 ho visto ma oh ci sto provando pallone riconquistato dalla squadra avversaria bella avevi provati le posizioni? si questi rischiano ovunque tanto con noi giuro, 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 giuro è stato bene mmm va dai bravo oh è bravo eh vedete stava bravo lui eh sta affatto bello ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro un'altra parte questa sta con questo è uuuuh vabbè ci può fare non è che sennò a parte questo qui non abbiamo fatto nulla abbiamo fatto tutto noi vande bec a metri davanti a se attenzione la conclusione vada iang e il quartiere recupera il paletto vediamo sicuro che che c'è? che ha dato? ma che fa? rigore di che? ma che è scemo? rigore no penti quando l'ha visto sto rigore rigore non è che mi ha visto sto rigore no questo non ha capito nemmeno è finito questo non l'ha veramente capito oh ha la figlio vai tommaso non vede ha spazio per andare? si c'è palla ricerca del momento giusto beh ma allora, ragazzi è questo sfortuna per il momento sfortunato un gol bello loro rigore non c'era mai mamma mia mamma mia mamma mia Guarda che c***o che stai visto Dai No questo non lo rifuglie più Oddio Io non lo rifuglie più ecco Vernell è clamoroso Vernell non lo rifuglio mai Dai Bravo Vai Ah si Quella le tutte però dai Ma che Le decinelle Va bene Ma meno male Ma Ramos non è Bravo Si Bloccavano Un po' sicuro Fred Bruno Fernandes Il primo gol ha fatto bene Ha spazio per andare Si si E a rigore Il rigore non c'era Il rigore non c'era mai Buone qualità di palleggio quest'oggi Ma dai che c***o No vabbè E allora Ma che No questi invece ce l'hanno che c***o eh Per i palli hanno vinti loro E allora Salgono gli invincible Mi porta via bene Io al lavoro Dai No vabbè No vabbè Impossibile 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 Noo Quando fanno usare La bascura Oh oh Come hai hanno Sergio Ramos Il tocco per Casemiro E Occhio a Klyver col pallone Gran balla Attenzione ai pallone lì Ma dimma ragazzi Occhio a Werner Bravo E Trocata di qualità Per intercettare il pallone Questi tutti rimpalli E' roba da pazzo Werner Wernell Trappolone Va bene bene Giù Rui Costa Recupera il pallone Oh Ora si Oh Meno male Meno male Meno male Meno male Mamma mia Bego questo Beh Questo sta un bego eh Bell'azione, bella falla Bell' tiro Begarbano Si Sì Pfff Eh Nooo Se il T horrifying zza E E buon'è questa bello che stia anche lì in mezzo bella botta no questi vecchi si salva dai culo per ora eh che mina che mina inizia a tirare è stata bellissima ma equilibrata combattuta penso che anche il pubblico è quello a casa si stia piano 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 facci facci spaccalo andava un rigore di dubbio sennò si stava anche vincendo 10 minuti alla fine della gara non no no madonna e basta oh mamma mamma bravo bravo spacca tutto l'arbitro dunque lascia giocare giù è ffff il funzionale grande fuori gioco con le fuori giocini nooo ah dai 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 2 funzionale perfetto questo perfetto questo è una eh sì sì basta oi 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 vuol dire uova vado a davidogliore occhio quattro nooo m a vabbè 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 con rigore inesistente, hanno fatto il primo gol loro incredibile rigore inesistente, fatto in basso del potuto comunque siamo ritornati un pochino si 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 no, si inizia a giocare meglio, con calma si perchè vedi sarà trovato un andazzo nelle partite precedenti non lo conoscerà, non lo conoscerà che si viaggiava alla velocità della luce si si poi hanno fatto sta cosa e bisogna ridimensionarsi un pochino però dai, diciamo che ci siamo si ci siamo, poi si andava a capire i giocatori oh 1200 è un onore adesso non di più, si adesso hanno messo l'occhio i giocatori un ombro comincia la finale tedesca, mi stirare no, nulla di nuovo eh ma oh benansi adesso sto guardando ah c'ho anche i disegni del campo da joward c'ho linee grandi a scacchi e diagonale ma qui c'ho da mettere il trofeo a base e niente dai, nulla a questo punto si ferma tutto beh, sì, sì al prossimo match al prossimo match al prossimo evento grazie per essere saluti con noi grazie a tutti ciao 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 a tutti